Mignegno, piccola frazione del comune di Pontremoli, ha una nuova area di sosta picnic realizzata dalla comunità montana grazie ai fondi del piano per lo sviluppo rurale. La zona è stata riqualificata. La giovane progettista Emanuela Curadi ci racconta come è nata la sua idea. Come riqualificarla? Abbiamo pensato innanzitutto di mettere delle piante che, diverse dal castagno per forza maggiore, potessero comunque dare l'idea proprio di accoglienza. La quercia è sicuramente quella che sul territorio lunigianese dà quest'idea di fortezza. Abbiamo pensato di mettere le querce, il Quercus robur, le querce rosse che danno un bellissimo rosso, le foglie si tingono di rosso di autunno, le betulle e poi una pianta un po' particolare, che è una pianta ornamentale che si chiama liquidambar, che ha la caratteristica in autunno di fare il colore delle foglie, si tinge un po' di rosso, un po' di giallo, un po' di viola. Abbiamo ripristinato i giochi per i bambini, che c'erano già però anche quelli erano in pessime condizioni. E poi un'area picnic, cioè di attrezzare quest'area con due tavoli e un barbecue per dare la possibilità ai ragazzi di venire a fare un picnic, insomma due salsicce. Sì, questa è una delle 14 aree di sosta picnic che la comunità montana della Lunigiana, utilizzando i fondi del piano di sviluppo rurale della regione toscana, ha voluto realizzare nel nostro territorio. Questa è quella di Mignigno di Pontremoli, la prima ad essere stata ultimata, ne seguiranno altre 13 che sono diffuse su tutto il territorio lunigianese, da Zeri a Casone in Lunigiana. Sono aree, occasione di ritrovo per le persone che transitano per il nostro territorio, ma anche per le persone che qui vivono e gruppo sportivo ricreativo Mignigno che ha adottato quest'area e che farà sì che l'area sia sempre accogliente a disposizione di tutti.